Buonasera, siamo ad Alimenti Fermatempo, come sempre con me Gianpaolo Tocco. Buonasera Gianpaolo, bentornato. Buonasera Barbara, grazie ancora. La trovo bene, sta bene, tutto a posto? Sì, sì, sì. Benissimo, siamo pronti per affrontare la nuova stagione, la primavera finalmente, una bella stagione che ci porterà verso l'estate. Ogni stagione è meravigliosa, perché guardi, non ci sarebbe gioia se non ci fossero difficoltà nella vita. Quindi ogni cosa ha il suo perché. Le piogge hanno un loro scopo, una loro motivazione, l'animo ha dei momenti di tristezza per poter gioire di più quando arriva uno spiraglio di sole. Però io sono un pochino condizionata dalle stagioni e la primavera mi mette più ottimismo. Sì, sì, con di dubbio. Per, immagino che anche per chi soffre di patologie gravi o anche semplicemente questa stanchezza cronica che si trascina quotidianamente o dei dolori. Sentiamo davvero persone che soffrono e hanno una vita davvero invalidante a causa di dolori continui ovunque. Ci sono delle soluzioni che non sono sempre farmacologiche, diciamolo. La soluzione farmacologica dovrebbe, a mio avviso, guardi, io sono erbosofo, amante della natura e delle erbe, ma non sono il fanatico o il convinto. Io sono informato, io sono passato da un mestiere meraviglioso all'erboristeria e allo studio della natura, proprio perché queste cose mi hanno, questa scienza mi ha entusiasmato. La natura ci può dare seriamente una mano. I farmaci sono importanti, ma la gente non deve dimenticare che le soluzioni naturali non sono l'alternativa al farmaco. Il farmaco deriva e copia le attività delle sostanze naturali riproducendoli in scala industriale, ed è giusto e per fortuna. Lei ci fa sempre l'esempio dell'aspirina. Guardi l'aspirina. Noi facevamo un prodotto, prima di fare la nostra curcumina HBA, posso nominarlo perché tanto non è più in copercio da dieci anni, l'estratto della corteccia del salice bianco, che contiene il principio attivo naturale che c'è nell'aspirina prodotto commerciale. Ma il prodotto commerciale è indispensabile perché non esiste la possibilità di fare un prodotto naturale per 8 miliardi di persone. Quindi lo si fa con la chimica. Ma io devo ricorrere all'aspirina solo in casi in cui ho bisogno di quella sostanza. E stiamo parlando dell'aspirina. Pensi quando parliamo di antibiotici, antidepressivi, psicofarmaci, antinfiammatori. C'è l'abuso. D'altro canto, un'azienda che finanziariamente è più importante delle aziende del petrolio, è diventata una potenza economica e ormai anche politica. grazie ad un fatturato strabiliante. E per avere un fatturato strabiliante devo convincere le persone che stanno male, devo convincere che devono prendere quella pastiglia lì. Il Stabenin, il Va tutto bien, quelle pastiglie che hanno mille... Guardi, l'altro giorno guardavo l'elenco degli antinfiammatori. 18 pagine scritte intensamente, quindi puoi immaginare saranno stati 500 nomi di farmaci, con tre principi attivi. Sempre gli stessi. Certo. Questo è il commercio. Allora, le bambine a 6 anni gli si dà le pastiglie per la tiroide. Io sono erborista, non sono medico, io dico una mia impressione. Una via si comincia a 6 anni, 7 anni con le pastiglie, si comincia prestissimo con le pastiglie, con le statine. Dici, ma come parli delle statine? Non sei medico? Beh, che cosa vuol dire? Se uno mi dà un calcio in bocca, non occorre che sia un traumatologo per capire che mi ha fatto male. Mi hai fatto male? No. Difficile beccarmi perché ancora ho la mia agilità. Ma se uno riesce a beccarmi con un calcio sui denti, non occorre chiedermi ma lei è traumatologo per poter dire che gli ha fatto male? No. Però mi ha fatto male. Allora, guardo alle cose come stanno e mi rendo conto che c'è un abuso. Guardi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto l'allarme. Garattini, dell'Istituto Negri, uno dei più grandi farmacologi, cosa ha detto? Cambiamo mentalità, bisogna cambiare cultura, usate troppi farmaci, lo dice un farmacologo. Allora il farmaco va usato ma in estrema razio, ultima spiaggia. Non ho fatto niente per prevenire, non ho voglia o non ho le possibilità economiche per ricorrere. È come uno dice, vuoi mangiare l'aragosto o vuoi mangiare un panino con dentro le cipolle? Dipende, sei in tasca un euro, panino con cipolle. Sei in tasca, ti mangi il cibi che vuoi. Purtroppo siamo sempre lì. Allora, davanti all'impossibilità di ricorrere alla grande qualità del prodotto naturale, vado sul farmaco. Davanti a determinati eventi della vita che mi portano a malattie particolari, corro dal farmaco, corro dal medico. Ma non dimentichiamo che i farmaci che funzionano, quelli più importanti, hanno copiato le attività delle sostanze naturali. Quindi la sostanza naturale è la regina dei curativi. Poi viene tutto il resto. Invece ci hanno convinto che prima di tutto c'è la chimica, c'è la farmacologia e poi le erbette. Le erbette non sono erbette. Sono un patrimonio che il creatore ha messo a disposizione dell'umanità e hanno dimostrato di funzionare benissimo. Allora si ricorre al farmaco per riparare il danno che potevamo evitare. Tra le mille sostanze benefiche, noi fino a vent'anni fa facevamo tanti prodotti buonissimi. Ce li cercano ancora dopo dieci anni che non li facciamo più. Si ricordo infatti, poi tante domande anche che arrivano in redazione riguardano il fatto che voi adesso vi siete concentrati solo su due sostanze. Per chi abbiamo scelto davanti al bivio, abbiamo scelto, conoscendo le due strade, di percorrere una strada. Qual è la strada sbagliata? La cattiva strada, come diceva la canzoncina di De Andrè. Per la cattiva strada, per noi. Buona per due o tre persone che fanno miliardi. La cattiva strada è, non faccio niente, aspetto che cadano le cose, aspetto di avere un problema, tanto poi c'è la pastiglietta e c'è il Dutur che scrive la cosa. Che mi darà effetti collaterali, controindicazioni, prendo le statine, le stuttine mi distruggono i muscoli. No, ma io prendo il riso rosso fermentato. Bravo, è una statina. È una statina. Allora, aspetto il problema, tanto ci sarà qualcuno che me lo risolve o scelgo la strada? E anche questa è una strada scientifica, dove ti dimostrano che la degenerazione cellulare, che il batterio, che il virus crea queste cose, quindi prendi sta roba qua. O l'altra strada, ancora più scientifica, perché è una strada che io ho sposato, non perché fossi innamorato della meravigliosa dottoressa Elizabeth Blackburn, non mi permetterai mai, magari il suo marito si offende e mia moglie mi bastona. Comunque non corro il rischio. Ma davanti alla mente straordinaria di questa donna che prende un premio Nobel. Premio Nobel per la medicina 2009. Che ha scoperto i telomeri. E ha scoperto che tutti i nostri problemi, e faremo una trasmissione sulla Blackburn, sui telomeri e su quello che determinano nel nostro destino questi telomeri. Comunque scopre i telomeri, piccole porzioni di DNA che proteggono i nostri cromosomi, il nostro DNA stesso. E scopre che tutti i nostri problemi, il primo, quello principale, il problema principale degli esseri umani, cos'è? Morire? No. No. Perché quando muori non lo sai, sei morto. Prima di morire, se stai bene non te ne frega niente, il problema degli esseri umani non è la morte, è la vecchiaia. Se la vecchiaia è brutta. Perché la vecchiaia, come diceva mia nonna, è come mangiare un toro con le corna. È un sacco di malattie, e non sto parlando male della vecchiaia che ho 70 anni, quindi sto parlando di me. La vecchiaia è, nell'immaginario comune, una sporta, un sacco pieno di problemi. Manca l'energia, ho i dolori, mi ammalo facilmente, mi guardo allo specchio e non mi riconosco, perché dico, ma come, l'altro ieri ero un ragazzo che faceva il figo con la divisa della marina, le ragazze, Napoli, Brindisi, dovunque c'era mare c'era tocco, e dovunque c'era tocco c'era la divisa della marina. E mi sembra l'altro giorno, e invece adesso mi guardo allo specchio e mi sono, ma sono me nonno. Questo spaventa l'invecchiare, l'ammalarsi, essere fragili nei confronti delle malattie, il dolore e la mancanza di energia. Allora, invecchiare è inevitabile, ma... Grazie a Dio. Grazie a Dio, perché qualcuno sfortunato non arriva a invecchiare. Però è una bella rottura di scatole invecchiare. Facciamo che invecchiamo più tardi possibile. Anziché, mi sembra che la medicina considera i 63 anni l'inizio della vecchiaia, ma state scherzando? 65. Facciamo che la vecchiaia viene dopo i 90-95. Anche perché c'è chi dice che siamo programmati per vivere oltre 100 anni. Il dottor Eiflick. Benissimo, ci fermiamo un attimo Gianpaolo, restate con noi. Il Laboratorio Ringiovanimento di Erbe Medicali presenta Gli Alimenti Fermatempo, che ringiovaniscono l'intero organismo, proteggendolo contro quasi tutte le malattie. Energia, benessere e salute, senza dolori e infiammazioni. Oggi non è più un sogno. Oggi è la realtà scientifica che rivoluziona la tua vita. La dottoressa Elisabeth Blackburn, premio Nobel per la medicina, ha scoperto che l'ossidazione e l'infiammazione sono le cause di quasi tutte le malattie, dell'invecchiamento e del dolore. Nel Laboratorio Ringiovanimento di Erbe Medicali nascono gli alimenti fermatempo, i potentissimi alimenti antiossidanti, antiinfiammatori naturali. Ringiovaniscono l'organismo, proteggono dalle malattie, eliminano la stanchezza e tolgono i dolori muscolari, articolari e di ogni altra origine. Per la salute, il benessere e l'energia, a qualsiasi età. Chiama subito per verificare la disponibilità dei prodotti e ordinare i tuoi alimenti fermatempo. Una confezione di Usa Redberry da 30 compresse più una confezione di Curcu Oro da 60 compresse a soli 69 euro, invece dei 91 euro del listino. E la spedizione è gratuita. Oppure, gli alimenti fermatempo, oggi in offerta Kit Famiglia. 3 confezioni di Usa Redberry più una confezione di Curcu Oro da 60 compresse in offerta speciale a soli 95 euro, invece dei 145 euro del listino. Ma non perdere l'offerta bonus salute alimenti fermatempo, che oggi consente di acquistare 6 confezioni di Usa Redberry più 2 confezioni di Curcu Oro a soli 179 euro, invece dei 302 euro del listino. E ricorda che oggi, su tutte le offerte, la spedizione è gratuita. Chiama subito per verificare la disponibilità dei prodotti e approfittare delle offerte in corso. Usa Redberry, a base di Redberry palustre selvaggio del Quebec, e Curcu Oro, a base di curcumina vegetale HBA dell'isola di Java e pappa reale. Sono i due alimenti fermatempo che da 30 anni consentono ai nostri 40.000 assistiti di stare bene, in energia, in piena salute, senza dolori di alcun tipo. Usa Redberry e Curcu Oro sono i tuoi alimenti fermatempo, sicuri, efficaci e 100% naturali. Assumili tutti i giorni! Le sostanze naturali che utilizziamo per realizzare gli alimenti fermatempo sono le più ricche di principi attivi e provengono esclusivamente da aree totalmente incontaminate del pianeta. Ecco perché funzionano davvero! Funzionano subito! Bene, Gianpaolo, siamo rientrati in studio e diciamo che ci sono delle basi scientifiche su cui si fonda la sua teoria. Esatto. Allora, le prime le abbiamo già viste. Migliaia di studi che determinano che due sostanze naturali hanno due proprietà meravigliose. Il Redberry selvatico, antiossidante e ringiovanente. La curcumina è un rigenerante. Ma perché sono meravigliose, straordinarie? Antiossidante, cosa vuol dire? Ringiovanente, cosa vuol dire? Cos'è? Il claim è il solito prodottino che vendiamo più giovani, se ricordi, ai tempi c'erano le cellule di caprone, il coso per diventare più giovani e ti guarderai allo specchio e ti sembrerà di vedere tuo nipote. Eh, tuo nipote che è arrivato in bagno e ha detto zio ti muovi che è un'ora che sei in cesso o no. No, non è così. Ringiovanente, antiossidante, ha una sua motivazione che adesso le dico. Rigenerante, antiinfiammatorio, ha una sua azione quotidiana che adesso le dico a che cosa è riferita. Perché quando uno parla di azione antiinfiammatoria della curcumina la gente giustamente dice antiinfiammatorio. Non hai bisogno di antiinfiammatori. Non hai bisogno di antiinfiammatori FANS, farmaci, antiinfiammatori non steroidei, dannosissimi, utili se te li prescrivi il medico, ma dannosissimi per i loro effetti collaterali e vanno presi in momenti particolari. Ma l'infiammazione non è quella che nell'immaginario collettivo noi pensiamo. Cioè ho un'infiammazione al ginocchio, ho un'infiammazione al fegato, ho un'infiammazione alla spalla. Non ho infiammazioni. No, le infiammazioni le hai tutti i giorni. Perché tutti i giorni, moltissime volte durante la giornata, il sistema immunitario si muove creando un'infiammazione che è la guerra che lui fa nei confronti di un'aggressione patogena che può essere virale, batterica, degenerativa, traumatica, alimentare. Ogni giorno noi subiamo aggressioni, ogni giorno il nostro sistema immunitario va. A fronteggiare queste aggressioni azionando uno stato infiammatorio che se non è risolto in poche ore può dare origine a malattie. Si cronicizza. Si cronicizza. Allora la base scientifica, mettiamo da parte questi due argomenti, antinfiammatorio redberry selvatico, rigenerante la curcumina H, B, A, non le porcherie che ci sono in giro. Che poi ci spiegherà anche, vuol dire alta biodisponibilità. Altissima biodisponibilità. E noi utilizziamo la curcumina più buona al mondo, definita così da decine di studi scientifici che hanno detto sì, questa entra nel torrente matico e funziona. Ecco perché funziona. Perché ha una struttura, è una nanotecnologia che consente di appiccicare una porzione, una molecola di curcumina ad una particella di colesterolo buono, quello di cui il nostro organismo ha bisogno per vivere. questa particella nuova trovata, che sono questi curcuminoidi fosfolipidi, vengono, l'intestino ne è ghiotto, cioè come arrivano l'intestino li assorbe, entrano nel torrente matico e svolgono davvero questa azione rigenerante. Ma a cosa mi serve l'azione antiossidante e rigenerante? Per fortificare l'organismo. Ah ma Tocco si è svegliato una mattina, ha dormito male, aveva bevuto il prosecco la sera per il compleanno della nipotina e si è svegliato con queste storie. No, Tocco non si inventa le cose, Tocco è un tecnico che legge, che vive, che si diverte, che soffre, che fa, ma rimane un tecnico che deve realizzare quello che gli scienziati gli dicono di realizzare. Sulla base di scoperte vere scientifiche pubblicate che prendono un premio Nobel, non frutto di farneticazioni che me le sono inventate e poi gli chiedi ma leggiamo la pubblicazione scientifica di quello che hai scoperto. Eh non ce l'ho, e allora non hai scoperto niente. La Blackburn, Elizabeth Blackburn, premio Nobel per la medicina 2009, scopre i telomeri e cosa scopre? Che noi viviamo molto meno di quello che dovremmo vivere. 120 anni sulla base di uno studio, non di chi che sia, ma del professor Leonard Heiflich, genetista, che non ieri, ma negli anni 60, ha fatto un calcolo dicendo che tutti gli esseri umani devono vivere 120 anni. E la Blackburn dice, perché non viviamo 120 anni? Ve lo dico io, perché noi vivremmo 120 anni se i telomeri che lei ha scoperto, porzioni di DNA che proteggono i cromosomi, non si consumassero. Se non si consumassero, si consumassero lentamente, proteggerebbero i nostri cromosomi, il nostro DNA a lungo e noi vivremo 120 anni. Aspetta, ma io voglio vivere 120 anni? No, da mummia. Voglio vivere 120 anni con dignità. E la Blackburn dice, che dignità? Io ti dico che l'arco della giovinezza supera gli 85 anni. E' pazza. No, è un premio Nobel. Ha scoperto un po' il segreto della longevità. Ha scoperto il segreto della longevità e della salute. Perché ha scoperto che consumandosi troppo rapidamente questi telomeri, non solo viviamo meno, non solo la nostra vecchiaia comincia presto, per la scienza 65 anni, per la Blackburn 85 anni, 90 anni, l'arco della giovinezza. Poi si entra nella vecchiaia. Ma una vecchiaia ancora dignitosa. Perché se rallentiamo la consunzione, cioè il degradamento di questi telomeri, viviamo molto di più, ma soprattutto ci ammaliamo molto di meno. Perché i cromosomi sono intatti, protetti dai telomeri. Come facciamo a proteggerli? Togliendo le due cause che li degradano. L'ossidazione e l'infiammazione. Torniamo al discorso di prima. Ha l'antiossidante vero. Ha l'antinfiammatorio vero. Allora, introducendo due alimenti, preparato alimentare un integratore, a base di Redberry selvatico del Quebec, a base di curcumina HBA, io entro nell'organismo e blocco quei due fattori che determinano l'accorciamento dei telomeri, che sono la causa, l'accorciamento dei telomeri, che sono la causa di invecchiamento precoce, morte prematura, innesco delle malattie cardiache, cardiovascolari, tumorali, degenerative, autoimmuni. Gian Paolo partono tutte da un'infiammazione che se non è curata, diciamo, cronicizza. Tutte le malattie hanno un'origine, si chiama stato infiammatorio. La curcumina lo spegne. Non perché potenzia il sistema immunitario, ma perché lo educa? Perché lo modula? Allora spegnendo l'infiammazione io tolgo il 90% di rischio che questo diventi una malattia. E l'infiammazione si manifesta col dolore. Quindi ti tolgo anche il dolore. E togliendoti l'ossidazione ripulisco le cellule. Quindi consento alle cellule di produrre energia. Morale? A 90 anni io non ho mancanza di energia dolori, malattie, aspetto terrificante. Perché ho 90 anni? Ma perché si sono innescati nel mio organismo processi infiammatori e ossidativi che hanno distrutto i telomeri che sono la nostra cassaforte della giovinezza, della salute, del benessere inteso come assenza di dolore e dell'energia. Ah! E dimmi che è poco quello che ha scoperto. Però guarda caso ne parla solamente Telecolor, ne parla solamente la dottoressa Barbara, ne parla il boristucolo Giampolo Tocco perché non aveva niente da fare. Ho una fortuna nella vita. Aver potuto fare da che avevo 14 anni perché prima ero a casa e quindi non potevo fare proprio tutto quello che volevo perché ogni tanto patapam battipanni. Dai 13 anni io sono andato a abitare a Venezia da solo perché ho cominciato il liceo artistico, l'ho finito prematuramente perché era l'anno 68, tutti pensavano all'anarchia, alla violenza di saluti e baci. Ho fatto odontotecnica ma da 14 anni io sono fuori casa e ho avuto la fortuna divina di fare sempre quello che cavolo mi piaceva. Questa roba mi piace e mi ci sono appassionato e mi appassiona raccontarla. E si sente questa passione, riesce a trasmetterla. E riesce anche a trasmettere il fatto che quello che sta raccontando ha effettivamente delle basi scientifiche e viene testimoniato da tutti coloro che ormai da anni assumono quotidianamente il redberry e la curcumina. Siamo una famigliola di oltre 40.000 persone, niente rispetto ai 60 milioni, 40.000 persone rispetto ai 600 milioni di utilizzatori di farmaci, al miliardo di persone, ai 3 miliardi di persone che hanno utilizzato vaccini, rispetto ai centinaia di milioni di persone che tirano giù chimica, 40.000 persone siamo un piccolo gruppetto, ma un piccolo gruppetto felice, sereno, tranquillo, in salute. In salute. Benissimo, Gianpaolo, noi la aspettiamo presto, torneremo ancora a parlare di redberry e curcumina. E della Blackburn. E della Blackburn, sicuramente. Grazie, grazie per essere stato con noi, a presto. Grazie a tutti.